Sale a 15 il numero dei contagiati ad Agropoli. Se i tre tamponi di cui si attendeva l'esito relativi alla catena di contatti della famiglia Petrizzo sono risultati tutti negativi, a far da contraltare a questa buona notizia c'è quella di un nuovo caso. Il sindaco Coppola infatti ha annunciato di essere stato informato di un contagio relativo ad una persona di Cava dei Tirreni arrivata in città lo scorso 13 marzo presso la fidanzata, posto subito in isolamento però l'uomo ha riscontrato una temperatura corporea elevata, la febbre stentava a passare così la Salerno ha disposto che prima che passasse l'isolamento fosse eseguito un tampone. L'esito è arrivato oggi, positivo. Per fortuna, aggiunge Coppola, il tampone verrà eseguito anche sulla fidanzata che è l'unica persona presente nella sua catena dei contatti. Attualmente il numero dei contagiati in città è quindi di 15. A questi numeri vanno aggiunte le tre persone già guarite e purtroppo i tre decessi. L'ultimo nella giornata di ieri, quello di Mimì Petrizzo, 83enne originario di Monte San Giacomo, che era risultato contagiato nei giorni scorsi ed è deceduto presso l'ospedale San Luca di Vallo della Lucania.